Kani Aman verrà presto in Turchia per le riprese del suo nuovo drama. Ayyapm è il produttore della serie da girare per Disney+. La storia della serie è emersa. Kani Aman, che da più di un anno prosegue la sua carriera in Italia, girerà la nuova serie per Disney+, intitolata El Turco. In realtà abbiamo fatto l'annuncio della serie, che sarà una storia per metà finta e per metà vera, sulla nostra pagina mesi fa. Ma a quel tempo il progetto era ancora all'inizio, non era chiaro chi suonerà nella serie e dove andrà in onda. La serie chiamata El Turco si svolgerà durante l'assedio ottomano di Vienna. La serie sarà adattata dal romanzo El Turco. El Turco racconta le tracce dei turchi in un villaggio chiamato Moena nel nord Italia. Le seguenti informazioni sono incluse nell'introduzione del libro. Un viaggio che farai in questo villaggio dove nessuno parla turco sarà il viaggio della tua vita. Intorno a te, sarai sorpreso di vedere segni come Turkish House, Turkish Street e Turkish Coffee. Se continui il tour, sarai accolto da un busto giannizero barbuto e turbato posto su un piedistallo di marmo. La cosa interessante è che c'è una bandiera turca con una mezzaluna e una stella sul piedistallo del busto e la parola turco scritta chiaramente. Se vai al villaggio ad agosto, vedrai che la gente indossa gli abiti nazionali turchi e scende in strada con la bandiera turca in mano. Mostrando un busto a uno qualsiasi degli abitanti del villaggio, chi è questo? Quando glielo chiedi, ti diranno, lui è il nostro antenato, anche noi siamo turchi. Allora chi è questo turco? L'ufficiale dell'intelligence ottomana Balabanaga, che fu trovato ferito e salvato da Imoena nel secondo assedio di Vienna, si stabilì in questo villaggio e organizzò una rivolta contadina di successo contro i signori che estorcevano denaro. In questo romanzo documentario leggerai gli aspetti sconosciuti del secondo assedio di Vienna insieme alla straordinaria storia di Balabanaga. Grazie a tutti.